Nel video di oggi andremo a visionare tre plugin da integrare all'interno del nostro browser che può essere Firefox oppure Chrome che secondo me sono imperdibili perché vanno ad integrare tutte le funzionalità di ChatGPT all'interno del browser mentre eseguiamo delle ricerche. Allora, il primo plugin è questo qui, quindi se voi cercate sul browser è disponibile sia per Chrome che per Firefox ChatGPT ConvDone, quindi quando lo installate che cosa succede? Succede che quando entrate su ChatGPT compare questa iconcina che vedete è questo pulsante che c'è giù in basso, Download Se io adesso andassi a cliccare su Download, lui va e mi scarica tutta la conversazione che ho appena avuto con l'intelligenza artificiale perché poi lui memorizza comunque gli argomenti qui, ma a un certo punto se ne avete troppi lui comincia a cancellarli Io voglio veramente invece memorizzare quello che è stato scaricato, quindi arrivo qui, apro il file col block notice e vedete che qui mi ha tirato giù tutta la conversazione che ho avuto con lui, quindi posso archiviare tutte le conversazioni che ho con l'intelligenza artificiale è una cosa veramente interessante, quindi questo plugin che trovate in descrizione è fruibile appunto per Firefox e Chrome Un altro plugin veramente molto interessante, questo probabilmente è il più bello, è Merlin, quindi se andiamo qui e cerchiamo Merlin ChatGPT on Browser anche questo lo trovate in descrizione al video Quando lo andiamo ad installare, ed è anche questo disponibile per Firefox e anche per Chrome Che cosa succede? Succede che se noi andiamo su Google e facciamo una ricerca, ad esempio scriviamo quello che ho scritto prima per la Pasqua scrivo in Visual Basic una funzione che posso calcolare alla Pasqua, ok? Quindi io scrivo qui e mi escono le proposte dei siti ad andare a vedere con Google, quindi lui mi propone le solite cose Però qui compare questo pop-up qui e se io, come risposta di Google, non mi piace quello che lui ha risposto posso andare a dire, perfetto, utilizziamo Merlin, quindi clicco ulteriormente su Search Quando io clicco su Search, che cosa succede? Lui prende il test che ho inserito nella barra di ricerca di Google, si connette a ChatGPT e lui va a darmi la risposta come se stesse interrogando ChatGPT Vedete che lui va a scrivermi come andare a calcolare la Pasqua in Visual Basic È fenomenale, ma non si ferma qui questo plugin Ipotizziamo adesso che vado ad esempio su Wikipedia, quindi entriamo su Wikipedia, faccio una ricerca da Google e entro ad esempio su questo articolo qua, che sono solo un page di Wikipedia Guardate, io adesso vado a selezionare questo testo qua, ok? E qui compare questo pop-up, ok? Questo pop-up è Merlin, lui mi dice per utilizzare Merlin in qualsiasi sito noi siamo cosa fai? Premi CTRL più G oppure premi su questo pop-up Appena io premo si apre la finestra di ricerca di comunicazione con ChatGPT Quindi lui prende tutto il testo che io ho sottolineato qua e io adesso gli potrei dire Fammi un riassunto del testo Quindi io ho selezionato il testo qui, non ho dovuto, dobbiamo poi prendere il bottoncino sotto Ok, questo qui Quindi vedete, io non sono dovuto entrare su ChatGPT E vedete anche più veloce rispetto ad entrare direttamente nell'intelligenza artificiale Quindi lui ha preso il testo, se l'ha inserito in automatico, ho fatto la domanda sopra e sotto mi ha dato la risposta Io potrei anche andare a cercare una, ad esempio, visual basic istruzione per Pasqua Veniamo qua e calcolo Pasqua, ad esempio arriviamo qua e lui mi porta su un sito Mi porta qui e trova questa funzione Quindi io gli dico, perfetto, la sottolineo Ok, potrei sottolinearla Andare su Merlin e gli dico Questa funzione è corretta Se voglio avere un parere da parte di Merlin Quindi lui mi dice, sì, la funzione di Pasqua è corretta Quindi mi dà del feedback Oppure potrei dirgli, correggi questa funzione che vedi In modo che funzioni in modo alternativo E lui ci dà la risposta È fenomenale questo plugin Quindi è veramente una scorciatoia molto utile Rispetto a che puoi andare sempre di qua e scrivere Che poi tante volte non riusciamo ad accedere Invece col plugin è molto difficile che ci dica che non possiamo comunicare con lui Perché probabilmente è un canale più diretto Un ultimo plugin veramente molto molto bello È GLASP Social Web Igetter Scusate per l'inglese And Not Talking Quindi questo è disponibile solo per Chrome, per Firefox In questo momento non c'è Quindi qui quando lo installate che cosa succede? Succede che quando noi andiamo su un video di YouTube Compare questa cosa che vedete qui in alto a destra Questo è ad esempio un mio video, no? Quindi ipotizziamo che sto seguendo il video E mi piacerebbe avere un riassunto del video che ho appena visto Vediamo Transcript Summary Quindi quando io apro qui lui che cosa fa? Prende la trascrizione di tutto il video Mi genera la trascrizione del video in automatico In questo caso me lo propone in inglese e in italiano Perché io come sottotitolo ho inserito inglese e italiano Se non ci fossero, che io non li ho inseriti Li va a generare in automatico Quindi lui dà la voce, interpreta e genera i sottotitoli In questo caso andiamo su italiano Vedete che io qui ho tutti i sottotitoli E se clicco su questo mirino che vedete in alto a destra Questo qua Cosa succede? Che se io sono a questo punto del video e clicco qua Lui mi porta nella posizione dei sottotitoli In cui io sto andando a visionare il video Se invece io prendo, faccio copia e poi premo sul bottoncino Che questa è OpenAI, quindi è chatGPT Quindi clicco qui Che cosa succede? Mi porto su chatGPT Faccio un incolla E praticamente lui mi prende il testo Ok? E quindi io qua gli potrei dire Perfetto Dammi un risultato su questo testo Fammi, ad esempio io metto il testo qua sotto Ok? Premo invio e gli dico Fammi un riassunto di questo testo Perfetto E lui, adesso ho fatto troppe richieste Vedete quello che vi dicevo prima E mi decide di aspettare un pochino Però lui andrebbe ad eseguirmi il riassunto Del video che ho appena visionato Quindi potrei dirgli anche Tirami fuori i momenti salienti I punti chiave Tutte le parti di script che sono state commentate E spiegameli anche tu Quindi potrei avere anche un suo feedback Quindi anche questo è veramente un plugin Che secondo me è veramente, veramente molto utile Ok? Vi direi che con questo video è tutto Se è stato di vostro gradimento Lasciate un bel eco sotto Iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale Se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offro Sempre sotto trovate il tastone abbonati Compare un video che vi spiega tutto quanto Nei minimi dettagli Tutti i servizi che offro eccetera Se invece vorrete supportarmi in altro modo In descrizione trovate diversi link Ad esempio un link che vi porta a un sito Per l'acquisto di licenze a costi inferiori rispetto allo standard Se entrate ad esempio sul sito Amaxo Se volete comprare Office Su questo sito comprono meno perché li comprono a stock In più sono licenze sicure rispetto a quelle che magari potreste trovare su eBay O su Amazon Ad esempio a 7 euro Che poi se vi fanno controllo e siete in azienda Non sono valide Quindi sempre attenzione a cosa acquistate Se costa poco dovete fare attenzione In questo sito è tutto ok Oppure ci sono i link di Amazon in descrizione Che se dovete acquistare qualcosa lì Passate i primi link Oppure ci sono anche i miei corsi che trovate sempre in descrizione Che portano a Udemy Ci sono corsi completi con rilascio della certificazione digitale Che poi potete utilizzare come meglio credete Ok vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui Ci vediamo al prossimo video A presto Ciao